Io ho chiesto al commissariamento quando apri il Ticelo tutti dicevano che era una boiata. Vedo con piacere che questo governo, l'Umicino, decide di concederci il commissariamento. Per me il commissario è ovviamente dell'Acqua, che è il mio direttore dell'ARPAB regionale, punto. Penso che sia la persona più votata per affrontare questo tema. Sui FAS siamo l'unica regione in Italia che ha stabilito i limiti. Ricordo che siamo gli unici in Italia ad avere i limiti. Abbiamo fatto l'esposto come parte offesa, abbiamo fatto la denuncia per il disastro ambientale, abbiamo chiesto il carotaggio all'interno dell'impresa, abbiamo messo i filtri per fare in modo che nella zona rossa l'acqua sia pulita. Stiamo facendo una battaglia per portare gli 80 milioni di euro e fare la nuova linea di acquedotto che sarà l'intervento definitivo.